Promuovere la sicurezza stradale su tutti i fronti è l'obiettivo della tre giorni sicurezza stradale. La Toscana c'è in corso a Firenze e a Prato per parlare dei fattori di rischio degli incidenti, delle buone pratiche alla guida e dell'educazione stradale ai giovani. In Toscana nel corso del 2013 ci sono stati ancora meno incidenti stradali, diminuiti del 3,9% e soprattutto si muore di meno. Le vittime della strada sono diminuite del 9,7%. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale che ha organizzato l'evento. È importante però promuovere la sicurezza stradale anche nelle scuole. Partirà fra poco un progetto del Ministero, si chiama Icaro, viene allargato a tutte le scuole italiane e potrebbe essere un buon inizio. Lo facciamo con tutte le federazioni sportive, lo facciamo con la polizia, lo facciamo con chi è stato pilota di Formula 1 e di Formula 2, il che significa dimostrare direttamente quando sei alla guida di un'auto, di una moto e quant'altro i rischi che puoi correre se non ti comporti come Dio comanda. Sempre per la sicurezza stradale, la Regione Toscana nel 2014 ha pubblicato un bando da 5 milioni di euro che consentirà di cofinanziare gli interventi sulle infrastrutture proposti da province e comuni. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo rafforzare l'impegno nostro e di tutti perché stiamo parlando di un tema che ha un valore di carattere civile, di carattere sociale e di carattere morale. Si è parlato anche di sicurezza, la guida e stili di vita perché alimentazione, fumo, consumo di farmaci e sostanze stupefacenti incidono sulla qualità dell'attenzione e sulla capacità di reazione, caratteristiche fondamentali per una buona condizione alla guida. Grazie. Grazie 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 Grazie